Mi chiamo Giovanna Barbati e ho fatto questo video per chiedervi di sostenere un progetto a cui tengo molto, un progetto di registrazione discografica, si tratta di composizioni per violoncello e basso continuo di un autore napoletano della prima metà del Settecento e farò la registrazione con quattro colleghi al continuo e quattro colleghi che sono delle professionisti affermate. Io penso che questo progetto sia importante per tutti perché la musica che verrà registrata non solo è bellissima ma è una scuola di diminuzione e nello stesso tempo una scuola di virtuosismo. Il progetto di registrazione infatti fa parte di un percorso molto più lungo che porto avanti da diversi anni di ricostruzione sia della pratica sia della didattica dell'improvvisazione. Infatti all'epoca i musicisti sapevano improvvisare e l'improvvisazione si imparava a scuola. Quindi questa parte didattica penso che possa aiutare tutti, soprattutto i ragazzi che studiano musica e possa aiutarli ad avere un percorso più creativo e penso che questo percorso poi porti anche a una maggiore libertà nell'esecuzione in concerto. La musica come ho detto è del primo settecento e il continuo sarà formato da clavicimbalo, arpa, violoncello e fagotto. Il vostro sostegno è indispensabile per la realizzazione del progetto. e mi auguro che vogliate sostenerlo. Grazie.